Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, mercoledì 26 maggio, ci sono cose belle, cose brutte, un po' mixate. Allora, prima cosa devo fare un saluto a Fabio, come metifoso del Napoli, stiamo soffrendo assieme. E mi scuso se ieri citandolo non mi ricordavo il suo nome, ma non era nessun tipo di cattiveria o offesa. Purtroppo ho delle giornate molto frenetiche, non solo davanti al PC, purtroppo alcune impreviste, alcune questioni a sistemare nel mondo reale, tra virgolette. E quindi avevo dimenticato il nome di chi mi aveva riportato le informazioni date da Renan Galvani. Comunque, un caro saluto a Fabio, un abbraccio, spero che con questa cosa sia stato tutto riparato. Seconda cosa, lo avete letto, su un blog di PES Italia è arrivata la conferma ufficiale che un'altra squadra partner di Konami dal prossimo anno sarà l'Atalanta. Però di questo parleremo in dettaglio nella puntata di oggi di Per favore, Konami, annuncia PES 2022. Parleremo di questa partnership dell'Atalanta e di alcuni dettagli dal filmato e d'altre questioni, alcune indiscrezioni che ho raccolto, interessanti. Quindi sarà una puntata molto molto interessante, arriverà nel pomeriggio. La brutta notizia è questa. PES Master, come non ci ha aggiornato come al solito in anteprima con le novità ieri, martedì 25, vi avevo annunciato questo video che non è mai arrivato, arriva oggi. Però il problema è solo uno. Non vedo i giocatori della settimana, nonostante domenica scorsa, come so bene, le partite si siano giocate e gli sfottosi faraoni i giocatori della settimana erano ovviamente legate alle performance delle squadre nell'ultima settimana. Perché Konami, almeno da quanto dice PES Master non realizzerà i giocatori della settimana, almeno questa settimana li poteva fare. Poi certo, giovedì prossimo non ci sono partite dei campionati europei sostanzialmente, poteva fare qualcosa in Sud America, penso in Sud America siano in corso i campionati. Comunque, ad oggi non si vedono i giocatori della settimana. Ora, non so dirvi se è perché non ci saranno davvero domani i giocatori della settimana, se PES Master non è riuscito a carpire questi dati, che magari Konami inserirà all'interno dei database del gioco solo all'ultimo secondo. Però, però, da qui si vede che ci sono in arrivo tre agenti squadra. Scusate, partiamo dal Liverpool. Ora, gli agenti squadra, lo sapete, arrivano sempre di lunedì, Quindi, in teoria, questi agenti squadra dovrebbero arrivare lunedì 31 maggio. Però, però, se magari non ci sono i giocatori in evidenza della settimana, forse ci saranno gli agenti squadra. Ripetisco sempre, PES Master è molto affidabile, ma non è una notizia ufficiale. Sono sempre anteprime di una fonte molto, moltissimo affidabile, ma non ufficiale. Quindi, c'è da aspettare domani per capire se appunto ci saranno i giocatori della settimana, ci saranno gli agenti squadra, non ci saranno gli uni, non ci saranno gli altri. Però, sono in arrivo tra giovedì e lunedì, diciamo. L'agente Liverpool con Mané, Thiago, Salah, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Diogo Iota, Kabak e Philips. Uno, due, tre, quattro e cinque ce li ho già e quindi non li girerò, anche se Mané ce l'ho... Sì, no, no, Mané pure ce l'ho in evidenza, quindi non lo girerò. Tan 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 tan, eccolo qui, Neymar 95. Ci riprovo, mi tengo le monete, non le spendo per nessun'altra cosa e riproviamo a fare tre giri. Ma tanto guardate che c'è vicino, un bappé, vabbè, ce l'ho già, l'ho già livellato, quindi non mi interesserebbe Navas, il mio incubo, e l'incubo anche di Claudio, il mio amico Claudio. Ciao Claudio, mi segui sempre e noi siamo, come dire, siamo stati letteralmente scioccati dalle nostre pescate sempre frequentissime con Navas. Comunque, esce Navas, esce Kimpembe che ho solo in versione base, quindi non mi dispiacerebbe. Draxler, Gueye 90, Ken 88, Dagba, giocatore che onestamente... non conosco, 86. E poi c'è Real Madrid, cioè poi, tra l'altro, nel Liverpool, il Liverpool non aventa il campionato, il Real Madrid non aventa il campionato, quindi così è proprio random sostanzialmente, per carità, grandissimi giocatori, un'altra possibilità di pescare Neymar, vediamo se fine maggio ce la faccio. Comunque, come dire, un po' strana questa scelta di questi tre agenti squadra. Comunque, Curtano 94, Benzema, Idem, Casemiro 93, Modric 92, Mendy 91, Asensio 91, Eder Militao 90 e Vinicius Junior 89. Questo è quanto ci propone Pestmaster in questo momento per il 27 maggio. Arriveranno domani i giocatori in evidenza? Da qui sembra di no, però io vi dico, prima di arrivare a conclusioni affrettate, aspettiamo domani l'ufficialità, ovvero l'arrivo dell'update dopo le 10, e in cui vedremo finalmente come stanno esattamente le cose e scopriremo dunque se i giocatori della settimana arriveranno o meno. Comunque, davvero io non vedo l'ora che arrivino gli europei, perché, come dire, questo lasso di tempo tra la fine dei campionati e l'inizio degli europei potrebbe essere un po' un po' moscetto, diciamo, da parte di Konami se non regala monete, non regala, non fa qualcosa di specifico. Poi, visto che comunque, ovviamente, la corsa verso Pest 2022 all'annuncio ufficiale o all'annuncio di nuove squadre partner, eccetera, è già iniziato, speriamo, ecco, che qualcosa arrivi comunque, o almeno, quanto meno, arrivino quanto prima gli europei, da cui ci aspettiamo davvero tanto, come il colpo di coda finale di Pest 2021 per lasciarci, come dire, un buon sapore in bocca per poi lanciarci verso Pest 2022 da settembre, probabilmente. Non sicuramente, ma probabilmente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Questo è tutto quello che Pest Master ci ha fatto vedere fino a questo momento e a prestissimo, oggi pomeriggio, appunto, con il filmato Per favore Konami annuncia Pest 2022 dedicato completamente all'Atalanta. Ciao!